Da lunedì la gran parte delle attività commerciali è stata dotata di una targhetta identificativa che è questa che vediamo qui, l'abbiamo in formato A4 ma l'abbiamo realizzata in formato A5 sicuramente più posizionabile con maggiore facilità all'interno degli esercizi commerciali. Di cosa si tratta? Nella realtà l'innovazione sta proprio nel dare una fotografia reale, in tempo reale, di quella che è la situazione di autorizzazione dei DEOR. Conteggiamo che noi abbiamo più di 190 richieste l'anno, quindi nel 2017 ci sono state 190 richieste e 190 autorizzazioni evase dal nostro Ufficio delle Attività Produttive. Con questa scheda in maniera semplice e veloce si può identificare che cosa? Innanzitutto l'esercizio commerciale, quindi il pubblico esercizio, la ragione sociale, quello che può riguardare il numero di autorizzazione, la durata dell'autorizzazione, quindi avendo già una fotografia della scadenza, quello che riguarda e sono i dati importanti per le forze dell'ordine, il numero dei tavoli, il numero delle sedie presenti, la tipologia di DEOR che stiamo andando a realizzare, quindi se c'è la presenza per esempio di ombrelloni o se c'è la presenza di un palco, tutti i dati che servono a facilitare il lavoro delle forze dell'ordine nel momento in cui chiaramente arrivano a fare un controllo su un esercizio commerciale. Sono tutti i dati a vista perché il tagliando viene esposto sulla vetrina del ristorante, del pub o proprio nel DEOR. Per fare una metafora, come si usava fino a poco tempo fa con il tagliando assicurativo delle auto che sarà l'obbligo di renderlo esposto? Bravissimo, è calzante, è un esempio calzante, quindi potrà essere esposto in vetrina o potrà essere appeso facilmente perché lo doteremo di un foro, appeso proprio sul DEOR. Primo risultato, è chiaro che chiunque, il cliente o oltre che magari i vigili che sono preposti a controlli, prima cosa si capisce subito chi è autorizzato e chi no, perché chi è autorizzato ha il tagliando, chi no non può metterlo esposto. Bravissimo, l'amministrazione tiene proprio a questo, a creare un atto di indirizzo di trasparenza proprio anche nei confronti del cittadino, perché ciascuno con una propria coscienza civica potrà stabilire se l'attività è autorizzata e quindi se il DEOR è autorizzato o se viceversa invece non fosse così. E quasi potrebbe essere anche una spinta a cercare poi di introdurre un'autorizzazione in tutti quei luoghi che purtroppo oggi ci rendiamo conto che per motivi di abusivismo non percorrono le vie burocratiche e legali. Chi non ce l'ha, visto si circondato da esercizi che espongono il tagliando, magari ha il pensiero, contatto, l'ufficio, attività produttive, la richiedo anche io. Potrebbe funzionare anche così. Il secondo aspetto è quello di una semplificazione dei controlli, perché magari tutti i documenti da trovare, da mostrare, da verificare, poi ai vigili urbani significano rallentare l'attività del ristorante, del pub, invece in questo modo è tutto a vista e in pochissimo tempo si verifica. È uno strumento che facilita notevolmente il lavoro delle forze dell'ordine e soprattutto facilita e non dà noia e blocca, come dire, l'attività degli esercizi commerciali, perché non è necessario in quel caso uscire tutti quelli che sono i documenti amministrativi che sono necessari per il controllo, ma piuttosto sia una fotografia reale. Poi è chiaro che verranno comunque realizzati i controlli da parte delle forze dell'ordine, ma sono notevolmente facilitati, visto e considerato che questo, appunto come ci siamo detti, è un po' il bollino dell'assicurazione, quindi ti dà una scheda reale, una fotografia reale ed evitiamo così di dare fastidio, di dover bloccare, come spesso succede, quelle che sono le attività degli esercizi commerciali, soprattutto nei momenti di maggiore flusso. E allora, comunicazione di servizio per proprio gli esercenti, questo tagliando la scheda sui de-ord la riceveranno automaticamente? Allora, sì, abbiamo già distribuito 35 schede, se si vuole in qualche modo accelerare questa distribuzione, noi la realizziamo tramite il comando dei vigili urbani, per cui non c'è nessun problema, non devono venire qui presso gli uffici, ma siamo noi addirittura a consegnare la scheda direttamente agli esercizi commerciali. Per chi volesse eventualmente velocizzare questa richiesta, può anche mandare una mail al nostro indirizzo di Segreteria di Attività Produttive Comune di Siracusa e in questo modo faciliteremo quella che è, cercheremo di velocizzare un pochino la distribuzione.